Ci troviamo nell'AMG Performance Center di Perugia, centro specializzato della concessionaria Rossi Mercedes-Benz interamente dedicato al marchio AMG e al mondo della Formula 1 in cui il team Mercedes-AMG Petronas per 7 anni di seguito ha conseguito il titolo mondiale. Qui il cliente può toccare con mano, scoprire, provare su strada e configurare la sua Mercedes-AMG, oltre che trovare un vasto assortimento di merchandising interamente dedicato al marchio. Oggi scopriremo Mercedes-AMG GLB 35 Quattromatic che unisce la versatilità di GLB e le linee squadrate tipiche dei fuoristrada la Mercedes con un motore 2000 benzina sovralimentato 1991 di cilindrata con 306 cavalli, 5 secondi e 3 l'accelerazione da 0 a 100, 400 Nm di coppia e la velocità massima di 250 km orari. Il frontale si caratterizza per la griglia specifica AMG con lamelle verticali, kit aerodinamico nella parte bassa del frontale e power dome nel cofano anteriore, oltre che un assetto che comprende sospensioni regolabili attive, cerchi in lega da 20 pollici e 5 doppie razzie e impianto frenante ad alte prestazioni con pinze rosse. La carrozzeria è in vernice metallizzata digital white a contrasto con il pacchetto night e night 2 che colora in nero lucido, oltre le cornici dei finestrini, anche le scritte denominative del modello. Nella parte alta del posteriore troviamo anche uno splitter sempre verniciato in nero lucido. Anche lateralmente nei mancorrenti, nei sottoporta, troviamo la colorazione nero lucido. I doppi scarichi posteriori si possono regolare su due sonorità balanced e powerful. Non manca la spaziosità del bagagliaio da 570 litri che ha un pianale regolabile su più altezze. I sedili scorrono in avanti di 15 cm e possiamo anche abbatterli singolarmente per avere fino a 1805 litri di bagagliaio. Per aprire le portiere abbiamo la funzione Keyless Go che ci permette di aprire la macchina con le chiavi in tasca. Soie illuminate e proiezioni del logo Mercedes che accolgono all'interno di un abitacolo curato in ogni dettaglio. Troviamo sedili in pelle microfibra con cuciture rosse a vista, cinture rosse per aumentare il carattere racing di questa vettura e inserti in tessuto metallico in stile carbonio. Il pacchetto luxury include all'interno della vettura il tetto panoramico apribile elettricamente, regolazione elettrica con possibilità di salvare le memorie dei sedili e non manca il sistema multimediale MBUX con funzioni touch e assistente vocale rapido. E i Mercedes? Di qualcosa. Attiva la cinetica del sedile. Sto attivando la cinetica del sedile. Il sistema di infotainment prevede anche delle grafiche dedicate al mondo performance come il menu AMG che ci permette di monitorare l'erogazione della coppia, il grado di accelerazione frenata, i consumi fino a configurare un profilo individual in cui possiamo scegliere il settaggio delle sospensioni, il sound degli scarichi e fare in modo che la vettura lo riproponga all'accensione. I tasti al volante AMG ci permettono di modificare le dinamiche di marcia. Ad esempio quello di destra permette di alternare una guida confortevole fino a una guida in sport e sport plus abbiamo anche un profilo per le superfici scivolose e sdrucciolevole. Il tasto di sinistra invece ci permette ad esempio di modificare singoli parametri della vettura come ad esempio le sospensioni. Le performance non sono svincolate dalla sicurezza. Di serie un ampio pacchetto di sicurezza attiva in cui troviamo sistema di frenata attiva e sistema di antisbandamento attivo. Venite a scoprirla nell'AMG Performance Center di Perugia.